Salve, oggi abbiamo un pacchettino abbastanza interessante che è arrivato per il branding questo svolterà positivamente questo canale appunto che io non ho con me il mio coltello c'è da aprirlo un po' a caso perché il coltellino è ecco, ora sì che la cosa si fa interessante i più avranno già capito di cosa si tratta i meno no, eccolo qua, ecco, abbiamo la linguetta il mio nuovo iPad iPad, che qua si dovrebbe vedere, guarda che facciamo questa ora qua iPad Pro 12.9 pollici e sesta di inazione, wifi 128 giga è uno scioglio in lingua, guarda che gigantesca la scatola, non si apre, sembra che ci fa patire ecco qua, tutta la spalla, è grosso, decisamente grosso, prima di guardare qua, nella scatola abbiamo design by Apple in California, alimentatore, spellicoliamo l'alimentatore, ah mi si attacca su tutto, continuiamo a spellicolare l'alimentatore cavo, che non ce ne ho già tantissimi, quindi la lasciamo qui iPad, però ho tutti i vari manualetti, ci sono anche gli sticker sono in iPad assurdo, giga enorme tra l'altro ora c'è anche l'Apple Pencil che, spoiler, è già unboxata, però vabbè dai, sono dettagli odora di Apple mamma mia, è giga enorme bello, giga è giga aspetta, 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 lo apriamo ce lo accendiamo aspetta, questo dovrebbe non so in che camera lo faccio vedere, però vabbè oh, mela hello andiamolo a configurare andiamo a cercare l'italiota no, no, questo è il malese, che cazzo è? ehm, i tatatatatatata italiano, ecco l'italiano madonna che figo, è gigantesco questo è il maglio di copertina madonna forse ho esagerato con le dimensioni sono un maschio iniziamo subito, però devo avvicinare l'iPhone configuriamo manualmente Aspetta, troppiamo quella camera Configuriamo tramite l'iPhone Scherzavo, non faccio manualmente perché non ho più voglia L'Apple Pencil L'ho già spedicolato perché ero in hype E io andrei a attaccare se attacca qua Non me la prende perché ovviamente la batteria è l'85% shock E' stata una gran cosa questo device Si è spreso capo ovviamente con gli sconti del Prime Day Face ID, su un coso gigante devo configurare Face ID Aspetta, spero si veda in qualche modo Mi sento scemo a farlo su lui Prima scansione, ok facciamo anche la seconda Il mio faccino Vedi, devo aspettare che si configuri tutto qua Che palle, para para Accettiamo termini, condizioni Tutto quello che ci passa al convento Però io si attacco qui la penna per ora Non succede nulla Ah ma voi non vedete, shock Stacco qua Succede nulla, speriamo cambi qualcosa Questo io stanotte ci guarderò a Netflix Lui andrà in pensione per un sacco di cose E subintererà l'iPad Pro M2 Che c'è, è più potente del mio Macbook con M1 Questa cosa è assurda Anche la batteria della macchina sta andando Ok fine Quindi Sto usando questo Aspetta, dov'è? Questo bellissimo iPad Da Qualche ora Cioè Era le dici Quasi un giorno Mettiamola così Sto usando questo bellissimo iPad Da quasi un giorno Bellino come è E vorrei fare un po' di annotazione Cioè me ne sono segnate qua Perché voglio provare anche Prendere appunti Su qualcosa di serio Non per prova Però dove le ho messi Eccoli qua Ho diviso il tutto in 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti Primo Display E qua Anzi Io ho metto anche lo screen Su Di come scrivo male Lo metto a schermo Così capite Quanto mi sono impegnato con l'Apple Pencil Essendo abituato a scrivere sempre a tastiera Grande rifetto Imparerò a scrivere appena sull'iPad Fatto sta Qualità Audio E video Bomba Il mini led Si vede tantissimo Anche la Cioè È proprio meraviglioso La notte quando lo usi Sembra quasi un OLED Se non Il blowing Quindi Vicino alle parti illuminate C'è questo Blowing Come lo posso definire Questo alone Vabbè Nulla di Non si nota troppo Se non lo sai Più che altro Mettiamola così L'audio Anche una bomba Aspetta 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 Voglio Metto a metà precisa Del volume Ed è Non rende Non rende sicuramente Al microfono dell'iPhone Ma ha tanta roba Anche i bassi Che non sono ovviamente il top Ma sono comunque molto buoni Parliamo invece di potenza Cotesto dentro C'ha Un Processore Apple Silicon M1 Vediamo se me lo dà anche scritto Da qualche parte Il fatto sta Che ha un M2 8 giga di ram È più potente Del mio computer Che ho Alle spalle E La prima parte di video Che avete visto Prendete anche questa qua Se non Non lo so Devo capire se ho voglia Di mettermeli È stata montata Con Final Cut Non so se si vede Perché c'è Anche qui Facciamo uno screen Infatti c'è anche qualche parte Disegnata sopra Con le scritte Tutto Molto bellina Come roba C'è Bellino L'unica cosa Senza tastiera Ma una cosa Molte cose sono anche easy Senza tastiera Il trackpad L'unica roba Che un po' mi ha Triggerato È il taglio Perché se devi tagliare una clip C'è in fondo A destra E lo vorrei un attimo più Si attacca Più reattiva Al taglio Davvero l'unica roba Ovviamente Io ho provato anche a farlo Con i universal control Quindi usando tastiera E trackpad Del mio Mac E guardando lo schermo Dell'iPad È stato un po' scopono Ma lì è stato davvero comodo Perché essendo abituato A fare un cut sul Mac Facendo con manzetta E tutto È stato davvero Fluido Forse anche Più apprezzato Per un lavoro del genere Quindi non molto Pesante come cosa Di montarlo sul Mac Quando prenderò la tastiera Perché prenderò Un po' qualche mese Prendo E si listano La svolta per i video Ah e tra l'altro L'export Di questo video Da 7 giga È Stato di 20 secondi 20 secondi Io quando me l'ha esportato Ho detto Ah vabbè Sarà neanche Mezzo giga Ci sta Invece no 7 giga In bin Io non ho capito Come cazzo ho fatto Cioè magia Non so cosa dire Questa Questa è anche un bel file Con Doppia Ah Ve lo sto facendo vedere Ma sto riflettendo Che l'avete visto Apple Pencil Bomba Assoluta Scrive Che è una meraviglia Io non ve l'avevo di portare Verso inizio di quest'iPad Già solo per lei Le è veramente Meraviglioso Penso ci metterò Comunque una cover Perché fa poco Grip È troppo piccolina La preferire Un attimo più grossona Non devo trovare una Che mantenga Anche il doppio tappe Il tutto Imparerò a disegnare Non lo so Lo farò provare A dei disegnatori Sì Potrebbe venire Un video molto figo Cioè Su questo iPad È già installato iPadOS 17 E attualmente Si può capire Solo dal wallpaper E dalla visualizzazione Nella musica Anche qui Non so se lo vedete Con la La luce puntata Addosso a me Però si dovrebbe vedere E Sai che non mi piace La lock screen Di iPadOS 17 Preferimo il 16 Lo devo ammettere Cioè Però è interessante Anche da dire Come ora Perché prima Col 16 Stage manager Era inutilizzabile Così Diventa più utilizzabile Potendomi spostare La finestra Dove voglio Capisci che è una cosa Più Professionale Più vicino al Mac Molto più vicino al Mac Ah tra l'altro Sempre piccolo appunto Su Final Cut Su Final Cut Quello che ho detto prima Perché l'ho scoperto prima Dopo che avevo scritto le note Final Cut Lo puoi usare anche in verticale Ed è comodissimo Io mi immagino Su un iPad Però da 11 pollici Final Cut In verticale All'asvolta Cioè Davvero bomba Bomba Questa grande cosa Molto figa Molto 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 figa Dimensioni Non sono da poco Non sono da poco Ma non è neanche così tanto Pensavo di più L'avevo visto Nel postore Mi aveva terrorizzato Invece tenendolo così Ci ho già fatto La mano Più o meno È comunque Molto grosso Molto molto grosso Ma neanche tantissimo L'unica cosa A oltre Vabbè La tastiera che io odio La tastiera di iPad Io non avevo il mio iPad Air Ma lo odiavo Molto grosso Senza una tastiera Infatti Prendeva la tastiera di sicuro Perché Sia per prendere appunti a scuola Perché Penso che Il netto a scuola Passando poi Al fattore successivo Perché dopo la grandezza C'era L'ultimo fattore La batteria L'ho testata poco Ma posso dirvi che Oggi Usandolo 7 ore Ho consumato un 100% Ma usandolo pesantemente Ho detto Tutte ore Final Cut Provo a fare questa clip Qua dall'iPad E Senza contare Che Senza contare Questo fattore batteria Dicendo anche che Sopra questo C'è iPadOS 17 Assurdo Mamma mia meraviglia C'è iPadOS 17 Quindi Non male Ho fatto Ho usato Photoshop Ho usato tutta quella roba là Quindi Non male la batteria di questo padone Ma lo dovrò testare a modo L'ho caricato sempre Col caricatore del netbook E No Ci sta Ci sta C'è l'ho usato tanto Poi Sono molto soddisfatto Sono contento anche che sia silver Ed è Stesso come del Mac Che è anche grande È molto simile Solo Il Mac è solo un po' più alto Lo spessore È una sottiletta È sottilissimo Una cosa bellissima Cioè Poi pesa anche Non poco Ma neanche tantissimo E Che altro devo dire No Sono molto soddisfatto In questi giorni arriverà Altri video Dedicati a lui Ma con calma Ci saranno Tanti 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 Come cazzo parlo Basta Che dire Sono molto contento Ah Fare foto